Nella legge di stabilità, per questo c'entra la legge di stabilità, non è previsto praticamente nulla per le borse di studio nel nostro mezzogiorno. Lo dico perché è vero che c'è un travaso anche di studenti dal sud verso il nord, scegliendo quelle che reputano essere università più qualificanti nella preparazione, ma c'è anche un problema poi di accesso allo studio, di diritto allo studio. Le borse di studio non possono essere liquidate su due piedi, perché è ovvio che laddove c'è maggiore difficoltà economica ed è indubbiamente nel nostro mezzogiorno, occorre anche che vi sia maggiore accesso al diritto di studio. Vi segnalo invece che per quello che riguarda il tema dei fondi strutturali europei, visto che mancano meno di due mesi, ce ne occuperemo nei prossimi giorni, anche qui è veramente inaccettabile. Stiamo rinunciando a miliardi di fondi europei per l'incapacità di predisporre piani decenti e quindi accettabili per l'Europa. Al di là delle truffe fatte con i fondi europei, è inaccettabile. Quello che non risulta sono 6 miliardi di fondi che rischiamo, o troviamo modo per utilizzare da qua al 31 dicembre, rischiamo di non utilizzare. 6 miliardi è tantissimo. Perché è vero che poi chiede al governo certe cose, ma quando tu non riesci a utilizzare 6 miliardi su 21, insomma, qualche esame di coscienza te lo devi fare. Lo dico anche alle regioni. Di questo parleremo. Quanto scrive il Sole 24 Ore oggi, o scopre il Sole 24 Ore oggi, mi sembra abbastanza incontrovertibile. Allora, c'è stato un calo negli ultimi quattro anni degli studenti che si sono iscritti all'università in Italia. E uno potrebbe dire, vabbè, è il combinato disposto del calo demografico, assieme al fatto che chi può, chi se lo può permettere, vada a studiare all'estero. Cosa che invece, quando facevo l'università io, avveniva solo dopo la laurea di solito. Cioè, era più che buona la preparazione, ma soprattutto il mercato del lavoro era tale che se ti laureavi in Italia, studiavi in Italia, e non eri proprio un somaro, un lavoro lo trovavi. È cambiato tutto, chi può va all'estero. Ma la cosa interessante è che questa media del 6,8% di calo nelle immatricolazioni è una media di trilussa. Perché? Perché al nord la situazione è stabile, cioè nell'università, diciamo, del nord del paese, non c'è stato nessun calo, meno 0,9%. Al centro, meno 4,6%, ma soprattutto, quando vedi le iscrizioni nell'università del sud, beh, lì è un tracollo, meno 14,5%. Meno 40%, ripeto, alla Giocalavela, meno 31% all'università partendo per di Napoli, meno 28% a Messina, meno 23% al Politecnico di Bari. Ora, uno potrebbe dire, beh, è il fatto che l'insegnamento è mediamente peggiore, gli studenti sono più intelligenti dei professori, quelli arroccati nelle baronie universitarie, hanno capito che il mondo è cambiato e vanno dove c'è una formazione migliore. Sicuramente ci può essere anche questo, però, fate notare che a Bagheria c'è un sindaco 5 stelle, vabbè, è giusto ricordarlo, c'è un sindaco 5 stelle. Però, tornando al tema dell'università, in realtà conta anche un po' il welfare, nel senso che, se ho ben capito, al nord la quasi totalità degli eventi di ritto alle borse di studio per motivi economici, di sostegno economico, le ottiene. E in Sicilia solo 1 su 3, in Calabria 1 su 2, in Campania 1 su 2, in Puglia 2 su 3. Insomma, questo è un peso che ce lo può avere. Giro la domanda a chi ha compilato e analizzato questi dati, mi riferisco a Gianni Trovati, del Sole 24 Ore, buonasera Gianni. Buonasera a voi. L'analisi completa dopo il metodo della pubblicità, però, la domanda che viene spontanea, ma non è che, essendo il Sud, ahimè, più povero, non si riesca a dare tutte le borse di studio perché le domande sono molto maggiori? No, non si riescono a dare le borse di studio perché i soldi delle regioni, le regioni si occupano di borse di studio, sono meno e soprattutto i tagli operati dalle regioni su questa voce sono superiori. Ecco, e questo, diciamo, la dice lunga su dove si va a tagliare, perché quando poi raccontiamo delle spese dalle regioni Sicilia, delle spese dalle regioni Calabria, delle spese dalle regioni Puglia, le raccontiamo, poi bisogna sapere, devono sapere i cittadini di quelle regioni che si tengono i soldi per alcune cose, e ne abbiamo raccontate a decine, e poi magari si levano i soldi delle borse di studio. Tanto, probabilmente il laureato, o magari laureato, la matricola vota, vota male, non è un voto strutturato, non lo so quale sia motivo, è semplicemente un'ignoranza un po' borbonica. Dopo il meteo. Logisticamente, Modul Block, dal più piccolo magazzino, semplice o automatico, al più complesso centro logistico. Vi presenta... State ascoltando un programma offerto da... Investi in fondi? Solo con OnlineSIM. Scegli tra oltre 4.000 fondi a zero commissioni di ingresso. Focus Economia. 17.39 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Berisoni, arriviamo alla legge di stabilità, però per non saltare i temi, attenzione, non basta dire che al sud gli Atenei sono più vuoti, o che le borse di studio non raggiungono tutti perché c'è maggiore bisogno al sud. Bisogna anche dire le cose come stanno, cioè le regioni del nostro mezzogiorno, in buona parte, sono regioni che preferiscono fare altre scelte, se no si va sempre a piagnisteo, a ecco non abbiamo le risorse, no, non è così, già ne trovate, cosa avete scoperto voi? E non sarà magari solo questo il motivo per cui le sono crollate, quando tu hai meno 40% di iscrizioni, meno 30% di iscrizioni in 5 anni, si parla di crollo delle iscrizioni all'università. Ci sarà anche la qualità, in alcuni casi, della docenza, dei servizi, di quello che c'è attorno, ma restiamo sul cosiddetto welfare accademico. Vai Gianni. Sì, il punto è quello, diciamo subito la eccezione che è la Basilicata, la Basilicata copre le borse di studio a tutti gli eventi di rito, è l'unica regione meridionale. Qui si crea sostanzialmente un circolo vizioso perché naturalmente molti studenti vanno nelle università del nord oppure a Roma, eccetera, nella ricerca di maggiori possibilità di lavoro quando poi uno esce dall'università. Il problema è che chi va al nord o a Roma, chi ha dietro una famiglia alle spalle che gli finanzia 4-5 anni, a Milano, Roma, Bologna, eccetera. Chi invece questa famiglia alle spalle non ce l'ha, non ha nessuna altra opportunità. Naturalmente il welfare accademico manca proprio dove ce n'è più bisogno, cioè dove il reddito medio e la ricchezza media delle famiglie è inferiore e questo esclude di fatto da una serie di possibilità tutta una serie di giovani diplomati meridionali che avrebbero tutte le carte da giocarsi tranne appunto la carta moneta, diciamo così, e il sistema non va incontro a loro. Diciamo anche un aggravante, questo dipende appunto dai bilanci disastrati di molte regioni, ma la voce diritto allo studio sul totale del bilancio regionale non è vitale. È proprio un taglio fatto, come dire, si tagliano tante voci che sono considerate elettoralmente poco significative. Così mi permetti anche di rispondere a chi si è offeso perché ho detto ignoranza borbonica. Dieci minuti fa avevo tessuto le lodi, ma non perché devo fare un colpo al cerchio e un colpo alla botte, di quanto difficile sia fare gli imprenditori al sud, molto più difficile che farlo al nord, per tutto un insieme di motivi, tra cui la criminalità organizzata lì ancora più presente, non solo lì presente. Ignoranza borbonica è nelle amministrazioni, così chiarisco, del nostro mezzogiorno, che privilegiano, lo stiamo raccontando da anni, non ho nessun problema a dire, non me ne frega nulla se qualcuno scrive, ah è diventato leghista, ma non diciamo cavolate, fermo restando, qualcuno vota quel cavolo che vuole. Ma il problema è che noi stiamo raccontando da anni, e abbiamo fatto anche una rubrica, come nella scelta dei soldi da spendere, se c'è da privilegiare, se no mi riprendo tutto il materiale che abbiamo, se c'è da privilegiare la sagra, la manifestazione culturale, abbiamo raccontato quanto spende la regione sicilia, per la banda del corpo forestale, adesso le tiro fuori, all'anno che deve andare, questo va sempre bene, perché si elagiscono i soldi, così per motivi di consenso, perché la sagra o il patrono, o la festa del patrono X e Y vanno, se poi c'è da dire, dove puntiamo per questi nostri giovani, che hanno già avuto la sfortuna di crescere, in un'area economicamente depressa, non da loro depressa, ma depressa da anni di cattiva amministrazione, e di clienterismo, e di rapporti con la criminalità organizzata, beh tagliamo giustamente, quelle che sono le borse di studio, con l'idea che tanto quelli, o votano poco, o non votano, o comunque non è lì che crei il grosso del consenso, vuoi mettere e distribuire per, a questo non ho nessun problema a dire che è così, va bene, perché, e a maggior ragione, là dove c'è un'area depressa, avresti più bisogno di insistere con le borse di studio, dire guardate quest'anno, non facciamo, non spendiamo un euro per la commemorazione di Santa Rosalia, o chi essa sia, ma il massimo rispetto alla religione, tutti i soldi li destiniamo alle borse di studio, si può immaginare? No, è una follia, perché poi probabilmente, i vari sindaci si arrabbiano, il consenso 3 non ce l'è più, comunque, detto questo, nella classifica che già hanno trovato, oggi presentato su solo le 24 ore, faccio notare che, ai peggiori posti, ci sono Reggio Calabria, Chieti, Pescara, L'Aquila, Napoli, ma ci sono anche delle università del sud che questi dati non li hanno avuti, Salerno ha avuto addirittura un leggero aumento degli iscritti da 2011 al 2015, faccio notare che Catania ha avuto un calo ben più basso della media, meno 7%, faccio notare che c'è anche un'università come Trieste, che ha avuto un calo molto forte del 16%, come lo UAV a Venezia, e come anche Perugia, per gli stranieri, lì non so se siano altre dinamiche, meno 32%, quindi non è tutto bianco e tutto nero, indubbiamente spiccano le università del sud, ma Macerata, che voi mi direte che cosa ha fatto, Macerata ha avuto un aumento delle matricolazioni, 14%, ora, cosa emerge dal taglio invece delle borse di studio, Gianni? Emerge appunto il circolo vizioso che dicevamo, e che è aggravato dal fatto che, perché si tagliano così a cuor leggero i soldi per il diritto allo studio? Perché il diritto allo studio, molti non sanno, che è finanziamento regionale, ma, come dire, è ritenuta una cosa statale, e quindi non c'è questo legame di responsabilità diretto nell'opinione pubblica, tra le condizioni disastrate in alcuni territori del diritto allo studio, e, appunto, la scelta della regione che ha privilegiato nei tagli questa voce piuttosto che altre. Hai fatto bene a citare Salerno, Salerno è sempre in controtendenza, a livello accademico, anche per quel che riguarda le performance sulla didattica, sulla ricerca, Salerno è un po' un'eccezione. I ragazzi non è che sono stupidi, se sanno che a Salerno, e tu magari abiti in Campania, in Puglia, hai anche dei vantaggi, l'università è buona, e infatti Salerno fa più 14%. È vero che nei test invalsi, adesso vado a memoria, anche io, ci sono sempre dei dati abbastanza in controtendenza rispetto a altre università al sud. Abbiamo raccontato, non ce l'ho con Bari, però sarà una coincidenza, ma è qualche mese che raccontiamo anche di problemucci all'università di Bari. Saranno coincidenza. Poi uno va a vedere, le precetture di studenti che hanno ricevuto la borsa di studio, in rapporto al totale degli idonei, nel 2013 ci sono intere regioni al 100%, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Toscana, Val d'Aosta, Veneto, provincia di Bolzano e Trento, ovviamente, tra virgolette, Lombardia all'87%, poi ci sono regioni che non se la passano malissimo, nel senso che Lazio, per esempio, ha il 77%, e poi hai Calabria, Campania 1 su 2, Sardegna 1 su 2, Sicilia 1 su 3, ed è una regione statuta autonomo, e ha 24.000 assunti regionali forestali, di cui abbiamo discusso anche la settimana scorsa, se tutto va bene, Giovanni. Il paradosso è che appunto il sistema ti chiede una serie di informazioni per capire se hai i parametri per ottenere la borsa di studio, tu gli dai le informazioni, lo stesso sistema ti dice, perfetto, i tuoi parametri sono in regola, però grazie a rivederci perché noi i soldi non ce li abbiamo, diciamo così, gli idonei non beneficiari, è il classico modo burocratico all'italiana, per nascondere sotto nomi un po' grigi, un paradosso assoluto, perché significa che tu hai le carte in regola per ottenere, quello si chiama diritto allo studio, non si chiama favore o altro, è un diritto, peraltro tutelato dalla Costituzione, dovrebbe essere una cosa automatica, io ho i parametri rispetto a una serie di parametri in primo luogo reddituali, l'ISEE, e quindi ottengo il diritto, invece il diritto in Italia molto spesso è un favore. Ma va bene, basta intenderci, decidiamo che lo studio non è più un diritto, e che lo Stato non ha più l'obiettivo di livellare le differenze che la storia biografica dà a ognuno di noi, tra chi nasce in una certa famiglia, piuttosto che in un'altra, in una regione piuttosto che in un'altra, non lo chiamiamo più diritto allo studio, ma facoltà di ricevere un bonus allo studio, in base a come la regione si comporta, in base alle priorità della regione. Però non capisco obiettivamente la polemica di alcuni ascoltatori su quello che abbiamo detto della regione del nostro mezzogiorno. Comunque, grazie a Gianni Trovati, traffico poi.